Buonasera e bentornati al palio d'inverno. Questa settimana parleremo soprattutto di Fantini, Fantini giovani, Fantini emergenti del palio di Siena, Fantini anche che hanno fatto quest'anno proprio le prime esperienze in piazza del campo. È stato un anno infatti in cui hanno avuto la possibilità di indossare un giubbetto tre Fantini, uno tra l'altro ha fatto proprio il suo primo palio nella contrada del Drago Federico Arri e poi altri due Fantini che invece hanno potuto fare la prima prova, uno nella lupa e l'altro nella tartuca. E noi siamo andati proprio a trovare i due Fantini nelle loro scuderie. Il primo Fantino che siamo andati a trovare, che ci ha raccontato un po' questa prima esperienza in piazza del campo, è stato Federico Guglielmi. Federico Guglielmi, quest'anno una prima possibilità in piazza del campo, fai la prima prova nella contrada della lupa ad agosto. Ma torniamo un po' indietro e partiamo da questa tua passione, la passione per i cavalli. Ecco, questa come nasce fin da piccolo, giusto, proprio a livello familiare? Sì, sì, diciamo cavalli in casa ci sono sempre stati, però la passione per i cavalli da corsa, quella vera, insomma è nata da un proprietario, Francesco Passalacqua, poi c'aveva cavalli vicino a casa mia e io fin da piccolissimo, fino all'età di dieci anni, ho cominciato subito ad andare, insomma, a girare intorno a cavalli da corsa, ho iniziato a montare i primi cavalli da corsa da lui e poi pian pianino mi sono avvicinato a Fantini e mi hanno fatto fare esperienza in questo lavoro. Ecco, e poi la decisione di metterti in prova, però siamo nella tua scuderia, quindi sei da solo, vuol dire che hai dei proprietari che ti hanno seguito, ecco, com'è stato questo percorso, quanti cavalli hai oggi in scuderia, quindi anche qual è stata la fiducia da parte dei proprietari? Ma, senti, adesso in scuderia ho dieci cavalli, tra un paio di cavalli miei e poi il restante sono tutti i proprietari, quindi, insomma, sono contento che si è creato un bel gruppo di proprietari, mi hanno dato fiducia nell'arco del tempo e, niente, un po', si è creata da amicizie, amici di amici e poi chiaramente devono venire anche risultati, fortunatamente l'anno scorso è stata un'annata molto positiva a livello di corse, insomma, ci sono vinte tante corse e quindi pian pianino poi si è aumentato il parco sia di proprietari che di cavalli. Ecco, quindi diciamo che questo non ha poi modificato molto il tuo rapporto con le dirigenze, perché comunque, nonostante tu non sia da un fantino big, diciamo, e sei da solo, sei riuscito comunque a montare, cosa che oggi non è neanche così facile per i giovani e quindi a creare dei rapporti con le contrade. Sì, sì, no, sono molto contento e ho molti rapporti con tante contrade, ma io, un po' per carattere, un po' per filosofia, diciamo, insomma, ho deciso presto, diciamo, di mettermi per conto mio, credo che alla fine la meritorrazia, alla fine comunque, se meriti, arrivi anche se non sei magari da un fantino big. Chiaramente anche io ho fatto tutti gli step che devono fare fantini giovani, sono stato ad imparare da fantini importanti come Giuseppe Zedde, come Dino Pes, Francesco Caria, eccetera, eccetera, però poi ho deciso di mettermi per conto mio per avere delle responsabilità, per avere anche un po' più di privacy quando vengono le contrade, perché comunque, se sei da solo hai un rapporto a tu per tu, se invece sei da un fantino big, chiaramente devi passare da lui. Ecco, questo è stato un anno particolare in piazza, perché c'è stato te, c'è stato un altro fantino che ha fatto una prima prova, c'è stato un fantino che è stato fatto esordine da una contrada, ecco, cosa fa la differenza secondo te, perché c'è tanti giovani che cercano di fare questo lavoro, no? Cosa serve poi per riuscire e per avvicinarsi a una contrada che ti dà fiducia? Ma io credo che in primis, come sempre, ci devono essere risultati, uno deve essere sempre pronto, tutte le corse deve far vedere voglioso di farsi vedere, penso che siano poi le caratteristiche di una contrada che cercano un giovane, però credo che tanta sia anche fortuna gli incastri che si creano nel giorno della tratta, insomma, il cavallo che va alla contrada dove potresti montare, credo che quello sia fondamentale. Credo che magari rispetto al passato, le dirigenze oggi investano un po' meno su giovani, magari dovrebbe essere una cosa che dovrebbe tornare, tra virgolette, di moda, però sembra che ora, insomma, quest'anno ci sia stato un po' di movimento, speriamo che continui e speriamo che le dirigenze stiano dietro a ragazzi giovani, anche perché per noi non è facile da nessun punto di vista, né dal punto di vista delle motivazioni, né dal punto di vista economico, perché chiaramente noi si fa tanti salifici, si fa salti mortali e magari averci una contrada dietro che ti spalleggia, che ti supporta tutto l'anno, è una motivazione in più sia a livello caratteriale che economico, magari. E così è arrivata la prima prova nella contrada della lupa, ecco, il rapporto con il capitano Gragnoli, con la dirigenza, quando nasce? Ma il rapporto della lupa è il rapporto che ormai veniva da due anni, è un rapporto intenso, solido, che poi si è, insomma, è sfociato nel fare la prima prova quest'anno, sono contento che mi abbiano dato questa opportunità, ora speriamo che si aprano degli scenari per arrivare in fondo a correre il palio. Cosa hai provato quando il 13 ti hanno chiamato e ti hanno detto che avresti avuto questa possibilità di indossare per la prima volta un giubbetto in piazza? Eh, ero contento, è uno, è la telefonata che aspetta, diciamo, da tutta la vita, insomma, di preparare le valigie e partire. È stato bello, anche se ero consapevole comunque che con un cavallo come quello sarebbe finita la prima prova, però è uno step d'avvicinamento a quello che poi sarà la realizzazione del sogno, insomma. Ecco, il rapporto con la contrada, l'arrivo in contrada, andare dietro con tutto il popolo, arrivare fino in piazza, qual è stata l'emozione in quel momento? Eh, andare in piazza con il popolo è stata un'emozione grande, insomma, te lo immagini da quando sei bambino e quando arrivi lì ti scoppia il cuore, insomma, perché senti un popolo che ti canta dietro, arriva in piazza, vede tutti i fazzoletti, insomma, è un'emozione forte. Tu avevi fatto ovviamente le tratte, avevi fatto le prove regolamentate, però qual è la differenza nel sentirsi fra i canapi indossando il giubbetto di una contrada, quindi rappresentando proprio un intero popolo? È bello, bello perché, diciamo, è sempre bello entrare in piazza sia per le prove mattutine che per la tratta, perché è sempre un'emozione, penso l'emozione che ti dà la piazza, non ci sia altro circuito al mondo che te lo possa dare, però vestire colori in una contrada, arrivare al canapo, essere con colleghi blasonati che hanno già fatto tante ore di volo e ti senti un po' piccolo, però allo stesso tempo ti senti il cuore grande perché sei a un passo da quello che vuoi fare. Poi la lupa ha vinto, tra l'altro, la carriera di agosto ed è la stessa cosa che è successa anche per la tartuca nel palio straordinario, montare un giovane alla prima prova e poi dopo vincere il palio. Cosa hai pensato quando hai visto che ha vinto la lupa e poi anche come hai vissuto un po' da qui eri vicino? Ma è bello, bello, sicuramente è una cosa che magari ora farà tornare di moda questa cosa di far fare una prova ai giovani, è bello, i festeggiamenti sono stati belli, è stato bello vedere tutto l'avvicinamento al palio, poi vedere la contrada gioire, chiaramente è una bella cosa. Niente, insomma, i festeggiamenti sono stata la cena della vittoria, ho visto tutto quello, ho visto la gioia dei contradioli e sicuramente è una cosa libidinosa. Dopo questo palio sono un po' cambiati i rapporti anche con le altre contrade, cioè si sono ampliati un po' di più oppure più o meno hai mantenuto gli stessi rapporti che avevi prima con le contrade? Ma più o meno sono rimasti i soliti rapporti, dai, ora poi, sai, siamo in una fase un po' di stand by, l'inverno, diciamo, a ridosso del palio è sempre un po' più calmo, ora anche i dirigenti essi prendono un attimo di pausa dopo i mesi calienti del palio, quindi i rapporti sono rimasti un po' i soliti. Spero che si possano ampliare, più che altro anche magari è una contrada che mi possa dare fiducia veramente per arrivare fino a un fondo e che creda a me fino a un fondo, dai. Ecco, dopo la prima prova ad agosto per il palio straordinario c'era un po' di speranza di correrlo quel palio fino in fondo? Sicuramente sì, non ti nego di no, purtroppo forse per la lupa non era l'occasione giusta, hanno ritenuto di prendere altre strade, purtroppo nel palio ci sono anche queste strategie paliesche che non spetta certo a me saperle, sono cose della lupa e se hanno fatto così è giusto che abbiano fatto così, insomma. Il prossimo anno la lupa non corre, almeno non corre d'obbligo, quindi cosa farà Federico Guglielmi? Qual è la sua speranza? Quali contrade potrebbe avvicinarsi? Ma sai, Federico Guglielmi non è il fantino della lupa, quindi nel senso io sono aperto a tutti i rapporti di tutte le contrade, chiaramente ringrazio la lupa che mi ha fatto fare la prima prova, quindi sicuramente c'è un legame, indubbiamente, però ecco non sono legato a nessuno, quindi la contrada che viene mi darà l'opportunità, penso troverà un ragazzo serio, un lavoratore che si impegna e tutte le corse cercano sempre di dare il massimo e spero che mi diano l'opportunità anche per dare il massimo al giorno del palio. E oltre a Federico Guglielmi che ha fatto appunto proprio la prima prova nella lupa ad agosto che poi tra l'altro ha vinto il palio, fare la prima prova per il palio straordinario è stato anche Alessio Giannetti nella contrada della Tartuca che anche questa ha poi vinto. il palio straordinario, noi siamo andate a trovare anche Alessio, sentiamo un po' quello che ci ha raccontato. Alessio Giannetti, quest'anno prima prova per il palio straordinario nella Tartuca, ma partiamo un po' dall'infanzia, dalla prima passione per i cavalli e per questo mondo, diciamo, La tua è una passione che parte anche da una famiglia che comunque amava i cavalli, ama cavalli e poi anche da Luigi Bruschelli. Allora io ho iniziato insomma diciamo quando ero piccolo, la passione dei cavalli ce l'ho sempre avuta perché insomma il mio babbo e il mio fratello hanno sempre avuto cavalli e io ho iniziato come tutti i ragazzini a giocare a pallone, a fare nuoto, però la mia passione era questa. e ho iniziato dal Bencini a fare equitazione, diciamo, ho fatto due anni là e poi sono andato da Luigi Bruschelli che vabbè siamo diciamo parenti, per me è come fosse insomma il mio zio, ecco. Siamo cugini, anche con Enrico siamo cresciuti insieme e abbiamo fatto questo percorso di strada insomma insieme. Ecco poi adesso sei invece Massimo Milani qui nella scuderia dove ci troviamo adesso, ecco com'è stato questo passaggio poi da diciamo essere da un fantino, un fantino anche big, un allenatore, un allevatore di cavalli che ha anche tanti cavalli che porta in piazza, ecco anche per i rapporti con le dirigenze. Allora diciamo che di sicuro sono partito da una grande scuola, una grande diciamo università e passando da Massimo ho fatto un po' il passaggio di testimone perché diciamo anche qua da imparare, magari sono cose diverse però qua c'è tanto da imparare, è una grande bella scuola. Di sicuro a me come da Gigi ci sono cresciuto, poi dovevo venire via ecco anche per maturazione mia personale diciamo. Qua sono maturato ancora di più perché lavorando con tanti cavalli, tante esperienze, Massimo è una persona che a me mi dà tanta mano e mi aiuta tanto a crescere, sicché si parte da qua ecco. Ci sono tanti ragazzi oggi che cercano di intraprendere questo lavoro di fantino, quest'anno tra l'altro in tre avete portato un giubbetto perché due avete fatto la prima prova e poi un ragazzo invece ha esordito in una contrada. Ecco cosa ci vuole per riuscire comunque ad avvicinarsi a una contrada e entrare in questo mondo? Cosa fa la differenza secondo te? Io penso sotto il mio punto di vista che il lavoro e la passione passano avanti a tutto, nel senso quando hai passione, lavori sotto, lavori duro, la mattina ti svegli alla passione di venire qua a lavorare e stare con i cavalli, io penso le cose vengono e poi come nel palio e come nella vita ci vuole un po' di fortuna, secondo quella. E poi la prima prova quest'anno nella contrada della Tartuca che poi tra l'altro è arrivata anche alla vittoria, ecco da dove arriva il rapporto con Capitano Corteccio e con tutta la dirigenza? Vabbè diciamo che con la Tartuca e anche con Gianni il rapporto si è creato già in precedenza, non mi avevano mai promesso niente, cioè non è che c'era stato ti facciamo montare il palio, una prova così, però il rapporto c'era, si è verificata la situazione giusta e stava fatta la prova. Ecco, quando ti hanno chiamato il giorno dell'assegnazione cosa hai provato? Eh vabbè, quello è il sogno da tutta la vita, mi sarebbe piaciuto anche portarlo a un fondo, però va bene per una prova, è stata tanta soddisfazione per me. Ecco, il rapporto quando sei arrivato in contrada, andare con il popolo in piazza, quali sono state le sensazioni? Vabbè, io parlo anche un po' da senesi, io da quando sono piccolo che ho vissuto questo iter diciamo, quando mi ritrovo lì e del popolo tutto dietro è una bella libidine, ecco. Ecco, viverlo proprio, te sei di Siena, anche nella nostra intervista ci avevi detto sono dell'istrice, però ormai ho deciso di fare questo mestiere, quindi ormai appartengo un po' a tutte le contrade, ecco viverlo con il giubbetto di un'altra contrada com'è stata quella sera. No, per me è emozionante diciamo, per me è quello che desidero, cioè qualunque sia stato il giubbetto per me è stata una cosa bella, è il mio lavoro diciamo, ecco, è quello che sogno da quando sono bambino e spero ti ripeto, è stata una prova e deve essere un inizio, io sono stracontento di tutto. Ecco, dopo la vittoria nella tartuca ci sei andato, hai un po' festeggiato, cioè ripresenta un po' di festeggiamenti? Ma senti, sono andato una sera a cena diciamo, sì, sono contento per loro, però insomma il palio è loro, non tanto mio, ecco. Ecco, ha vinto un giovane comunque nella tartuca perché ha vinto un fantino alla sua prima vittoria in piazza, no? Quindi lo spazio per i giovani si sta facendo un po' negli ultimi anni nel palio. Sì, no, io spero, anche perché ora non vuole a dirlo, no? Però sarà fisiologico, qualche vecchione smetterà, eh? Voglio dire. Quindi nuove strade. No, ci vogliono personaggi, diciamo come ha fatto Gianni, persone dirigenti che abbiano diciamo, la voglia di portare avanti dei giovani che poi è stata la dimostrazione ora di Andrea. È un giovane che comunque si è fatto valere e ha portato avanti per la sua strada le sue idee e è stato ripagato. Anche noi giovani possiamo fare tutto questo. Ecco, il caso ha voluto, lo dicevamo prima, che quest'anno sia agosto che per il palio straordinario hanno vinto due contrade con due capitani che hanno dato questa possibilità che da un po' di anni, che non si vedeva in piazza, di far fare una prima prova a un giovane. Quindi portate fortuna? Eh, diciamo di sì, spazio ai giovani. E trai? Senti, dopo questo palio sono un po' cambiati i rapporti con le contrade, hai avuto più chiamate o più o meno sono le stesse contrade con cui avevi già rapporti dopo la prima prova? Ma senti, per ora io ando sta un giubbetto, però comunque sono sempre Alessio e il lavoro duro per me è uno stimolo andare avanti. Per ora i rapporti sono diciamo sempre i soliti, speriamo si smuova qualche cos'altro, anche per bagaglio mia di esperienza e poi vediamo, ecco. Di sicuro affronterò un anno con più voglia in tutto. Prossimo anno quindi si pensa a correre il primo palio davvero? Io spero di sì, perché posso essere pronto, ecco. Sembra essere un po' un anno particolare per i giovani, sembra che ci siano un po' di cambiamenti da questo punto di vista, appunto nuove esperienze quest'anno in Piazza del Campo per questi tre giovani e inoltre proprio in questi giorni si sta parlando di un altro ragazzo, un altro giovane, che potrebbe appunto diventare fantino della Contra della Pantera. Stiamo parlando di Sebastiano Sini, ancora non è stata ufficializzata la notizia durante l'assemblea, però sembra che ovviamente sia molto vicina l'ufficializzazione, poi ovviamente ne parleremo nelle prossime settimane se tutto verrà ufficializzato. Adesso cambiamo argomento perché torniamo invece a parlare dei mangini, della nostra rubrica Mangini dietro alle Quinte, questa settimana il nostro Andrea è andato a trovare i mangini della Contra della dell'Aquila. Siamo nel Museo della Nobile Contra della dell'Aquila per il secondo appuntamento della nostra rubrica Mangini dietro alle Quinte, oggi incontreremo i mangini del Capitano Lorenzini. Andrea Fontani, Duce Carrapelli e Simone Lupoli, i tre mangini della Nobile Contra della dell'Aquila, del Capitano Lorenzini. Prima di tutto, cosa significa essere mangini? Essere mangini, intanto essere comunque a servizio della Contrada per uno scopo ben preciso e comunque aiutare il Capitano nel proprio ruolo, per arrivare a uno scopo ben preciso, cioè la vittoria. Sì, è questo, arrivare alla vittoria, fare bene e chiaramente poi sviluppare dei ragionamenti tutti e quattro insieme, anche se poi chiaramente l'ultima parola aspetta sempre comunque al Capitano. Vabbè, hanno già detto tutto loro, comunque coadiuvare il Capitano nelle scelte, nei ragionamenti e cercare appunto di raggiungere l'obiettivo che tutti vogliamo raggiungere, insomma. Ecco, è anche un ruolo impegnativo comunque. Dunque, però poi l'ultima parola aspetta sempre il Capitano. Qual è il percorso che avete fatto in Contrada prima di arrivare al ruolo di Mangino? Allora, per quanto mi riguarda, parto un po' da lontano, diciamo, ho fatto un po' tutta la trafila, diciamo dal 93 in poi, fatto da ragazzo di Stalla, vice Barbaresco, Barbaresco e già a Mangino nel mandato di Giovanni Mandriani fino al 2009. Poi dal 2010 riposo fino a che Marco Lorenzini mi ha riamato l'anno scorso e ho accettato ben volentieri perché comunque è un gruppo che mi piace e col quale lavoro molto volentieri, molto bene. Io senti, ho fatto, sono stato in commissione giovani, ho fatto la commissione economato, poi nel 96 e 97 ho fatto il vice Barbaresco, dopodiché ho fatto un anno di guardia Fantino e poi è dal 2014 dopo l'elezione di Marco che sono Mangino. Allora, dunque prima di entrare a far parte dello staff paleo ho fatto cancelliere, vice cancelliere quindi in Contrada e poi con il mandato di Renato Romeni nel 2010 ho iniziato fino al 2013, poi quando è entrato in carica Marco Antonio Lorenzini con lui fino ad oggi, quindi praticamente nello staff paleo dal 2010. Non ho avuto esperienze di Stalla o di Barbaresco, vice Barbaresco. Ecco, quindi avete avuto tante esperienze in Contrada, tante esperienze diverse. Come si vive la Contrada da Mangino rispetto a come l'avete vissuta nei vostri ruoli precedenti? Allora, vabbè, durante tutto l'anno, come un semplice Contrada iolo, comunque sia, la vita di Contrada è quella. La cosa che cambia è veramente per i giorni del paleo o i giorni che si avvicinano al paleo, chiaramente dalla primavera in poi c'è più fermento, quindi dobbiamo vivere giornalmente quasi, insomma ci muoviamo sia con Fantini che con altre Contrade e i quattro giorni del paleo chiaramente sono totalmente diversi perché in Contrada proprio ci rimbalzi, perché talmente sono tanti appuntamenti, partiti, comunque le cose da fare in Stalla e quindi fare il Contrada è semplice, fare il Mangino in quei giorni ti cambia totalmente la prospettiva. Sì, come ha detto Duccio, disponibilità totale, questo chiaramente fare il Mangino è anche poi, noi anche a diverso tempo non si vince, quindi è anche una responsabilità importante che sentiamo sulle nostre spalle, però è comunque una splendida cosa, una bella cosa. Io direi questo, che in quei giorni cambia molto, perché perlomeno dal mio punto di vista sei lontano dai tuoi amici, sei lontano magari dalle persone con cui vorresti vivere il paleo perché hai un impegno e quindi sei impegnato da un altro fronte, quindi in quei quattro giorni anche di più, sei un po' lontano dagli amici di sempre, però perché rivesti un ruolo. Gli altri giorni si vive come sempre la Contrada, non c'è tanta differenza, almeno dal mio punto di vista. Che rapporto avete con il Capitano? Marco, un rapporto chiaramente in primis d'amicizia, quindi un rapporto buonissimo dal punto di vista lavorativo, nel senso di rapporto per il ruolo che abbiamo, buonissimo, persona con la quale riusciamo sempre a scambiare i nostri pareri, a confrontarci e poi alla fine a condividere una scelta comune, insomma che vada bene a tutti, soprattutto a lui chiaramente, ma comunque ottimo, ottimo rapporto. Marco benissimo, mi ha visto praticamente crescere, mi ha visto Ficcino molto bene, poi è una persona seria, squisita, molto pignola e molto precisa nel lavoro che sta portando avanti. Un rapporto bellissimo, anche perché io sono stato Mangino con lui, con Renato Romei, e quindi siamo partiti un pochino insieme, anche se lui aveva un'esperienza precedente, anche vittoriosa, cosa che non ho io, però perlomeno siamo partiti insieme, quindi ci siamo conosciuti prima da Mangini e poi lui ha preso la strada del Capitano, quindi ottimo rapporto, meraviglioso. Il vostro Capitano vi dice tutto? Sì, con lui condividiamo tutto, insomma, ecco tutto quello che fa, chiaramente tante cose le fa giustamente, le fa da solo, specialmente in rapporti con gli altri Capitani, anche con i Fantini, comunque sia c'è la massima trasparenza da parte sua e anche da parte nostra. Sì, come ha detto lui, quando agisce da solo giustamente per alcune cose, comunque ci mette sempre a conoscenza di tutto. Quindi è scontato, assolutamente sì, sappiamo tutto e ci scambiamo le informazioni su tutto. Ecco, parlando di Fantini, quanto è importante tenere i rapporti con i Fantini e chi lo fa di più, i Mangini o il Capitano? Ma di base, diciamo, le cose, diciamo, il quotidiano lo viviamo un po' tutti, diciamo, sia la parte invernale che anche la parte di giorni, diciamo, fra palio e palio, quando c'è da fare, ci sono delle cose che possiamo fare insieme, però ci sono anche delle cose che, giustamente, è bene che se le vede al Capitano a quattro occhi direttamente con il Fantino, perché a volte fa un effetto diverso, insomma, parlare e andarci tutti insieme per una visita, diciamo, di cortesia o, quando c'è da stringere qualche concetto, parlarne a quattro occhi. Sì, è questo. E poi essere molto chiari con loro, senza nascondersi niente a vicenda, questo, la trasparenza, poi la serietà, poi da fine so quello che creano un rapporto, insomma. Sì, io penso che comunque alcuni passaggi importanti è bene le faccia del Capitano con il Fantino e alcuni concetti, come diceva appunto Duccio, è bene che le esprima bene a quattro occhi il Capitano, poi è bene anche essere tutti coinvolti, magari ogni mangino ha un rapporto un po' più particolare con il Fantino, riesce a stringere più il rapporto con uno più che un altro e quindi riesce anche a parlarne in maniera meno formale con i Fantini. Da parte le immagini, però alcuni concetti è bene, sì, che il Capitano ha quattro occhi, ne parli col Fantino direttamente. Durante l'anno, quante volte si va a cena con i Fantini? A cena, aperitivi, abbastanza, via, perlomeno per quanto riguarda noi, non è una cosa esagerata, insomma. Ecco, cerchiamo di fare cene in maniera giusta, insomma, ecco. L'importante è quando poi c'è da stringere, da dirsi delle cose, magari si fanno anche davanti a un bicchiere di prosecco a casa senza andare a cena. Però comunque, specialmente con certi Fantini con i quali abbiamo più rapporto, chiaramente fa piacere anche a livello proprio umano d'amicizia, insomma, ecco, passare una sera a cena insieme, anche per parlare dieci minuti di paleo e il resto anche di altre cose, insomma, l'amicizia. Sì, sì, poi più o meno è questo, vai a cena e parli di paleo e dopo mezz'ora e parli di paleo poi alla fine inizi a parlare anche di cose simpatiche, fa due risate, quindi è piacevole e si fanno, sì, diverse, però insomma, niente di, non è che si va tutte le settimane due o tre volte a cena, ecco. Quando ci si avvicina al paleo, chiaramente il tempo stringe, quindi. Vabbè, arrivo sempre per terzo, comunque, i ragionamenti sono questi, dai, va bene. A cena comunque Fantini con cui si stringe di più e magari aperitivi con quelli con cui sa un rapporto meno forte o comunque, altrimenti, insomma, l'impegno è soprattutto quando ci si avvicina al paleo. Spesso i mangini sono visti anche come intermediari tra la capitaneria, il capitano e il popolo. Che rapporto avete voi con il popolo? Allora, questo è un aspetto particolare. In genere c'è sempre il mangino che viene mandato in avanscoperta quando c'è da fare una scelta o un'altra. È un ruolo che bisogna saperlo fare, non è facile, non tutti riescono a intermediare tra il capitano e la contrada. Però, sostanzialmente, perlomeno dal mio punto di vista, cerco di avere un buon rapporto con tutti, essere il po' più diplomatico possibile, però quello dipende molto anche dal carattere delle persone. Perlomeno io ci provo, poi spero di in questi anni esserci riuscito. Sì, è questo, anche perché poi, giustamente, i ragazzi, le persone, quando ti vedono, specialmente nell'avvicinarsi del paleo, ti fanno mille domande, vorrebbero sapere mille cose, quindi alcune cose cerchi di farle capire, altre non le puoi dire. Però sì, c'è comunque questo bel rapporto, almeno per quanto mi riguarda, con i miei amici, con tutti. Sì, poi volevo aggiungere anche che, onestamente, siamo abbastanza fortunati, perché abbiamo un capitano che ha un rapporto alla contrada stupendo, nel senso che comunque non è una persona, cioè una persona alla quale si può parlare bene, quindi tante cose le chiedono direttamente anche a lui, ha sempre una risposta per tutto, insomma, è così che su questo siamo anche abbastanza agevolati. Le vostre professioni nella vita privata, in che modo influiscono, incidono, se lo fanno, nel ruolo di mangino? Allora, io essendo un medico, essendo un chirurgo, è un impegno, la mia professione mi porta via tanto tempo, mi assorbe tanto tempo, quindi io, diciamo, sono costretto a inventarmi, a fare salti mortali per cercare di tenermi libero nei giorni del palio e soprattutto anche in frasi settimanali. Quindi è un impegno grosso, però è un sacrificio che faccio volentieri, perché spero un giorno che sia ripagato e che, però, perché poi quando vivi il palio da dentro e ti rendi conto che tutti i sacrifici ha fatto per il lavoro, alla fine si possono fare, ecco. Le faccio volentieri. Io non sono un medico, sono dipendente, quindi mi organizzo abbastanza bene, non ho grossi problemi. Rendermi libero, anche improvvisamente, in qualche modo, si fa sempre. Ho un lavoro che mi impegna molto e anche quando Marco mi ha richiesto, insomma, se ero disponibile a rifare il mangino, chiaramente ci ho pensato, ma chiaramente ne ho parlato anche a casa, perché tante volte sì, il tempo che tolgo per fare il mangino lo tolgo in parte al lavoro, ma in parte anche alla famiglia, quindi era normale che tutti fossimo a conoscenza, insomma, che un po' di tempo andava via, quindi comunque me ne togli e comunque al lavoro riesco comunque a organizzarmi, insomma, mi riesco a trovare il tempo per farlo in maniera adeguata. Ultima domanda. Cosa si prova ad essere mangini? Quando siamo lì, sul palco dei capitani, alla mossa, cosa si prova? Allora, io ho tanta emozione, però anche tanta determinazione, concentrazione e anche responsabilità. Anche se poi il capitano è responsabile ultimo, in quei momenti, in quei frangenti, io mi sento un po' responsabile di alcune scelte fatte, anche perché poi deve rispondere, insomma, alla contrada. Però anche tanta determinazione e tanta emozione, sì. Senti, salvo breve. Responsabilità, concentrazione e adrenalina a palla. Io penso anche, oltre a quello che hanno detto loro, che fare il mangino alla fine è anche un privilegio, perché comunque è un ruolo che non a tutti, purtroppo non tutti riescono a fare, arrivano a fare. Quindi, da una parte, mi sento anche fortunato, insomma, di vivere il palio in questa maniera e chiaramente con le responsabilità del caso, però mi ritengo anche fortunato, insomma, di vivere questa esperienza. E ora la nostra ultima rubrica, quella dedicata alle donne delle contrade, che ci parlano, ci ricordano appunto il palio all'interno delle loro contrade. Questa settimana siamo andati nella contrada della Torre e abbiamo sentito appunto due donne che proprio ci hanno raccontato i loro ricordi di palio e anche quello che significa oggi per le donne vivere la contrada. Ci troviamo nella stanzina delle donne della Torre con due donne, Stefana Rinaldi che è il presidente attuale proprio del gruppo donne della Torre e Rossella Bellaccini che è stata presidente del gruppo donne, è stata vicario, quindi veramente tante cose da ricordare e tante cose di cui parlare. Anche perché appunto, diciamolo, la contrada della Torre è una delle poche contrade rimaste tuttora con un gruppo donne, quindi avremo sicuramente tanto da dire. Però parliamo un po' partendo dai ricordi, da quello che è stato essere della Torre da piccola, da giovane, quindi gli anni qui nella stanzina ne parlavamo prima, in salicotto, ecco i ricordi di l'adolescenza anche un po'. Sì, io sono un po' la memoria storica di questo gruppo donne, nata e cresciuta e ho avuto diversi incarichi proprio nel gruppo donne. Ho avuto la fortuna sempre di essere inserita e di partecipare, anche nel 61 perché avevo otto anni e mi ricordo che sfacciatamente, da ragazzina come ero, col vestitino della Torre, sono andata insieme a due amichette nel loca a vendere i francobolli della rigirata e mi ricordo che ce l'hanno anche comprati allora. Poi in questa stanzina, se chiudo gli occhi, la memoria è di tantissime donne che hanno fatto la storia anche della nostra contrada, le vedo a cucire, a cantare, sempre tutte qui partecipi, mi riferisco anche alla mia nonna e alla mia mamma che ora non ci sono più. Questa è stata sempre il luogo di ritrovo e anche di discussioni delle donne che hanno poi portato a una forza e a un'evoluzione al femminile nella Torre abbastanza da sottolineare. Qui ci sono tanti ricordi, si parla dell'inizio del gruppo donne della Torre già nel 1889, quindi noi abbiamo festeggiato il centenario nel 1989 facendo una foto ricordo che è qui di dietro, ci siamo vestite in cento donne con le monture della nostra contrada e abbiamo avuto poi la soddisfazione nel 2005 nel nostro numero unico, nella prima pagina è stata riportata quella foto. Ogni dieci anni poi è stato rifesteggiato, quindi 110-120 anni e l'anno prossimo verranno festeggiati con il gruppo donne che c'è ora, i 130 anni del gruppo donne della nostra contrada. Noi poi ne parleremo, ovviamente parleremo del gruppo donne e anche delle varie iniziative, però vorrei parlare ancora un po' della contrada anche con Stefania per parlare un po' anche del suo passato e parlavamo prima di un primo paleo vinto già a un'età più adulta, non da ragazzina, è stata un'attesa molto lunga, qual è il ricordo del 2005? Allora, intanto l'attesa che è stata snervante, anni di pianti, disperazione, io una volta mi ricordo di tornare a casa, che il babbo era comunque un contradaiolo, gli detti il fazzoletto e gli dissi perché mi hai voluto fare ideatore? E lui rimase male, poi ritornai, gli dissi ridammelo, lo ripresi e si piangeva. E poi, vabbè, la vittoria del 2005 è stata comunque, nonostante forse per tutti era il momento giusto, per me comunque inaspettata perché non ci credi mai, o perlomeno era abituata a non crederci che sarebbe poi successa una cosa del genere. è stata una forte emozione, io ho anche tanti vuoti di memoria di quella giornata perché ero così fuori di me sicuramente. C'ho dei momenti che non ricordo nemmeno cosa ho fatto, dove ero, non ho il ricordo di essere stata dietro al palio, cioè quando poi le amiche mi dicono guarda se era lì, guarda se hai fatto questo. E poi è una cosa bella che nell'occasione mi successe, che avevo la mia figliola da un'amica, gli dici guarda mi raccomando, qualsiasi cosa succeda, che stai a casa, anche perché io non avevo idea nemmeno di quello che potevo fare, e poi arrivati in Duomo, a un certo punto c'era la mia amica, era andata a prendere la mia figliola e me l'aveva portata, e è stata una gioia, cioè a me mi commuove tuttora. Ecco, tra l'altro nel 2005 la Torre vince dopo tanti anni, dopo 44 anni, con una donna capitano. Diciamo che anche nel 61 la nostra capitana era una donna, quindi bene o male in questa contrada il ruolo della donna non è relegato solo a cucina, bandiere o apparecchiare, ma comunque hanno avuto ruoli di spicco, ruoli importanti, perché sia nel 61 che nel 2005 hanno vinto due donne. Parlavamo prima del percorso un po' in contrada, del fatto di diventare presidente del gruppo donne, poi i Vicaria, come sono stati quegli anni in contrada? Qual è il ricordo di quegli anni? Bello, un bellissimo ricordo, perché diciamo così si cresce, no? Si cresce insieme alla contrada e c'è questo forte rinnovamento che come avviene nel palio, perché c'è il rinnovamento normale della società, cambiano i tempi, anche per quello che riguarda il gruppo donne, noi abbiamo vissuto questo forte rinnovamento. Ricordo che la stanzina una volta, per poter essere iscritte, quando ero piccolina io, si doveva passare da una commissione, erano poche le scritte alla stanzina, come se fosse un'aggregazione all'interno della contrada dalla quale solo quelle proprio di contrada a contrada potevano partecipare. Non è più così. La stanzina è rimasta come nome. Poi è il gruppo delle donne della torre che ha subito questa forte crescita, questa forte evoluzione, che l'ha portata, come ripetevo anche prima, al completo inserimento nella contrada. E io credo che questo sia il motivo per cui ancora rimane come gruppo. Rimane come gruppo perché è una forte organizzazione che aiuta molto la contrada in tutti i suoi aspetti. È anche una cosa molto faticosa perché ciascun membro del direttivo si inserisce con quello della società, si inserisce con quello della contrada, partecipa appieno. Una sorta, lasciatemelo dire, di quinto o sesto vicario, se si vuole, perché partecipa appieno a tutte quelle che sono le attività anche di relazioni pubbliche, anche per quello che riguarda l'economato, anche per quello che riguarda tanti aspetti. Il gruppo donne c'è sempre. Quindi noi, questo aspetto, una cosa che voglio sottolineare, perché io ho parlato con tante dei gruppi donne, non in tutte le contrade. Questo gruppo donne è un gruppo radicato, cioè il discorso dei 130 anni non esiste in tutte le contrade. Ecco perché probabilmente questa tradizione noi ce la portiamo dietro e abbiamo avuto anche il coraggio poi di fare questo cambiamento che oggi secondo me ci porta a lavorare bene in contrada. Non è stato sempre facile. No. Non è stato sempre facile, perché il problema femminile e maschile c'è sempre stato e ancora forse non è superato. Però ce la mettiamo tutta. Allora adesso parliamo un po' con la presidente attuale del gruppo donne e un po' di questo incarico. Prima dicevamo un incarico bello impegnativo, tanti gli eventi, tanti gli appuntamenti. Parliamo un po' di cosa significa essere il presidente del gruppo donne della Torre e anche di cosa fate, perché cosa si fa qui nella stanzina dove siamo adesso, cosa fanno le donne durante l'anno, anche durante i mesi invernali. Allora, innanzitutto fare la presidente del gruppo donne è stata per me una nota d'orgoglio e di soddisfazione indescrivibile. Cioè, al momento della commissione, già, perché questo è il secondo mandato, quindi, tre anni fa mi chiese di fare la presidente delle donne, insomma, per me fu una forte emozione e non lo nego in tutte le occasioni, infatti mi prende anche in giro, perché sono una di lacrima facile. spesso quando devo parlare la mia lacrimuccia esce sempre e niente, al di là di tutto questo orgoglio, soddisfazione, perché poi comunque sembra quasi un traguardo, no? Perché comunque nella stanzina ci sono entrata come supporto, ho fatto il direttivo, è stata un percorso che comunque poi mi ha portato a fare la presidente. Ci sono momenti piacevoli e momenti anche abbastanza difficoltosi, perché comunque si sa che le donne hanno anche una bella tenacia e tenerle tutte un po' e a bada in certa occasione non è così facile. Ti devi sempre comunque imporre a volte non è nel mio carattere quindi a volte ho difficoltà io proprio però devo dire che comunque è un bel gruppo donne cioè è bastato anche nell'ultimo palio chiedere una mano anche per il palco cioè sono sempre tutte molto disponibili è una contrada comunque al di là del gruppo donne o gruppo o uomini cioè noi siamo molto integrate siamo della torre punto poi a prescindere che il gruppo donne riesca in qualche modo a gestire alcuni lati della contrada che possono essere comunque i servizi che può essere comunque dare una mano per la cena alla prova generale non è rilegato solo a questo cioè è comunque un gruppo che partecipa molto molto coeso anche con la società c'è collaborazione voi vi ritrovate durante l'anno avete degli appuntamenti fissi noi alla stanzina vabbè abbiamo i direttivi dove vengono organizzati alcuni eventi perché per esempio il gruppo donne storico è la mostra dei fiori che comunque a marzo aprile in genere aprile si svolge e praticamente è l'iniziativa che riapre bene o male lo scenario paleo lo scenario contrada perché comunque rinizia la primavera e noi siamo bene o male le prime che danno un po' il via a tutte le attività quindi vabbè noi ci si ritrova si organizza ci diamo i vari compiti come direttivo che è un direttivo che devo dire sono molto felice perché è un gruppo che collabora bene ci siamo trovati molto d'accordo comunque siamo persone bene o male cresciute insieme quindi ti conosci da una vita è anche più semplice e questo si organizzare le varie iniziative che bene o male vengano gestite comunque sempre dalle donne che può essere la mostra dei fiori che può essere la festa dell'uva che si fa a ottobre può per il resto quello che viene fatto viene fatto in concomitanza con quello che fa la contrada sempre all'interno della contrada con una buona cooperazione tra gli uomini e le donne quello che diceva questa non è una contrada nella contrada ma è un gruppo che partecipa alle attività che vengano fatte e che comunque ha una sua storia cioè è un gruppo che va avanti da comunque 130 anni il prossimo anno infatti faremo i festeggiamenti per questi nostri 130 anni questo c'è un po' in cantiere qualcosa si può svelare? no qualcosa c'è ci stiamo già lavorando ma è un ricordo anche è un omaggio alle donne che hanno fatto sì che si arrivasse a questo traguardo dei 130 anni io vorrei per concludere anche visto che ne parlavamo prima parlare di quello che sarà la donna nella contrada un pensiero cosa sarà la donna nella contrada come evolverà la donna nella contrada secondo me la donna nella contrada della torre farà di tutto capitano mangino presidente di società perché questo percorso proprio porta a questo in parte già avvenuto e continuerà questo non vuol dire io non lo so come finirà il percorso poi se continuerà proprio questo gruppo diciamo così storico secondo me sì però non lo so come si evolverà ma senz'altro in senso positivo per quello che riguarda all'interno della contrada ora Stefania per esempio anche con l'economato partecipano tantissimo le donne stasera tutti i lunedì da ottobre fino a marzo scuola di cucito scuola di bandieraie ma 14 15 persone che vengano tutti i lunedì qui non è banale vivere la contrada così c'è stata la scuola di pittura poi la nostra integrazione con quel circolo culturale scusate battilana io ho due anni che faccio inglese non avevo mai fatto inglese siamo gruppi di 20 persone che si partecipano ai vari livelli alla scuola d'inglese ma questo vuol dire vivere la contrada anche d'inverno è bello c'è una donna o qualcuno qualche contradaiolo a cui pensa particolarmente a cui si è ispirata nel suo percorso incontrata ma sinceramente no sinceramente no io ho avuto tanta stima della marchesa misciatelli che vinse il palio nel 61 e di Aurora che c'è sua figlia che diciamo così presidente onoraria del gruppo donne della torre che ha accettato e gliel'hai dato conferito te questo incarico e l'ha accettato con tanto onore quindi diciamo questa figura femminile è bella evidente tosta una persona che si è presentata molto bene anche nel mondo del palio eccetera è un punto diciamo anche di riferimento poi noi ce lo creiamo da noi la nostra immagine all'interno della contrada così deve essere al pari dell'uomine io una cosa che volevo dire è che spesso siamo proprio noi donne a privarsi poi di avere delle chance in tutti gli ambiti poi che non sono solo la contrada ma che possono essere il lavoro e anche ambizioni più ampie ma perché comunque forse ci hanno un po' incolcato nella testa che per sé una brava mamma una brava moglie una brava casalinga allora certi ruoli forse non li prendiamo per non sacrificare la casa il lavoro i figlioli e ci facciamo un po' delle remore cioè un uomo non ha il problema se chiede alla moglie o un incarico sicuramente per la moglie sarà una nota d'orgoglio avere comunque un marito che ha un incarico sia incontrata se lo fa una donna credo che anche a livello familiare e la gestione sia diversa è visto più come forse ancora troppa ambizione con questa riflessione che è bene anche un po' dare un proprio giudizio una propria opinione e raccontare proprio le donne incontrata perché è quello che vogliamo fare io vi ringrazio per essere stati con noi ringrazio la contrata della torre perché così abbiamo potuto raccontare come facciamo ogni settimana proprio il palio e le contrade dal punto di vista e anche dal cuore delle donne e noi ringraziamo sia la contrada dell'Aquila che ci ha permesso appunto di poter parlare chiacchierare un po' con i mangini sia la contrada della torre che come avete visto appunto ci ha fatto andare a fare questa intervista all'interno di questo luogo la stanzina delle donne della torre luogo particolare quindi ringraziamo anche la contrada della torre questo è il nostro ultimo appunto intervento noi ovviamente torneremo la prossima settimana con tante altre novità tanti altri dettagli tutti legati al mondo del palio e delle contrade grazie per essere stati con noi buona serata grazie per la visione